Ciao a tutti! Nuova collaborazione con Gnose. Ho preso questa volta sempre tre charm, un paio di orecchini, una collana e un anello. Il tutto arriva sempre, come sempre, nella bustina con questo sacchettino scamosciato e tutti i gioielli sono confezionati in un sacchettino unico in plastica, sigillato con la chiusura ermetica, così non si ossidano. Andiamo a vedere che cosa ho scelto. Inizio con il botto, sì, inizio con il botto. La prima cosa che ho scelto è questo anello, anello trilogy, con questi zirconi e l'anello è in argento e mi piace tanto perché mi piace soprattutto il castone che gli hanno fatto con il cuoricino, che ricordo un pochino Riccardo, eh? Sì! Ultimamente stanno facendo i castoni fatti così traforati, loro li hanno fatti pieni invece. E vedevo ammettere, pensavo che la pietra centrale era un pelino più piccola, invece è bello, bello massiccio. La dimensione dell'anello che ho scelto è un otto e corrisponde a una cinquantaquattro, sì, corrisponde a cinquantaquattro, come otto. Quindi se portate una cinquantaquattro, dell'altra marca ovviamente, prendete in considerazione l'idea di prendere un otto. Ha appunto questo super zircone centrale, guardate la dimensione rispetto alle mie unghie e dita, so che non sono un spettacolo, però così cercate di capire anche quanto sono grandi, di quello centrale e le altre due sono un po' più piccole. Sul bordo ci sono altri zirconcini incastonati, non arrivano fino a metà del cerchio dell'anello, ma arrivano un po', perché la metà è qua, arrivano un pelino prima, giusto per non graffiare dal fastidio alle altre dita, secondo me è un'ottima cosa. E così è come calza, così vedete anche quanto sporge. Devo dire che addosso fa anche scena, proprio per quello che ho detto, che partiamo con il botto. È un bellissimo anello con zirconi. Poi io direi di concentrarci principalmente sui charm, in questo caso. Ne ho scelti tre, un po' per amore, ecco, sinceramente non perché sapevo dove metterli. Ma allora, il primo è questo, che è stupendo, lo trovo meraviglioso. Devo ammettere che questo charm l'ho visto tante volte sul nostro sito amato, ma non l'ho mai preso perché costava tantissimo e quindi non l'ho mai voluto prendere. Devo dire la verità è fatto molto molto bene, molto 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 bene. È questo palloncino con tutte queste pietre che sono rosa e le più grandi e quelle più piccoline sono di un rosso ciliegia. Attorno, oltre alle pietre, ci sono delle stelline, proprio stelline vere e proprie, e quell'effetto tipo sempre stellina ma a croce, vedete? Questa qua ha un effetto a croce, sempre in argento, molto molto bello. All'interno è tutto traforato e pendente c'è questo cuoricino, sempre in argento, con purtroppo, sento di dire, perché ormai l'avete capito, gli anellini di gnos mi lasciano sempre un po' così, però per ora si stanno comportando bene. L'anellino del palloncino è abbastanza spesso, mentre quell'altro è un pochino sottile, però per ora reggono anche quelli che mi hanno spedito prima. Nel frattempo ci sono i gatti che si fanno le unghie, portate pazienza. Oltre a questo, vi dicevo, 3 charm, facciamo questo qua, proprio perché si sono fatti sentire, ho voluto provare anche questo. Questa, come vedete, è un'altra finitura, ha una finitura nera, brunita nera, comunque sembra più che brunita, proprio un effetto bagnato, ecco, come la parte rosata, non so se avete mai visto i charm di gnos dal vivo, comunque questa qua è la parte rosata, la scopina e il gattino, come vedete sulla scopa, è nero, esattamente come l'anellino, l'anellino è fatto come tutti gli altri anellini dei pendenti, quindi c'è scritto gnos, è sottile, uguale, anche gli anellini di congiunzione sono sempre loro e il gattino è molto simpatico, non so se riuscite a vederlo, ma ha gli occhi con due piccole pietrine cristallini verdi. Devo dire che su un bracciale a tema Halloween o comunque a tunnale, io lo volevo mettere lì in mezzo perché ormai, avete capito, sto cercando di costruire il bracciale a tunnale con qualcosa di gnos, quindi ho messo dentro il cappellino, la zucca, sapete le cose precedenti e volevo appunto aggiungere anche questo perché lo trovo molto 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 carino e poi ovviamente se c'è un gatto deve essere mio. Devo dire che la fattura, cioè la fattura alla forma non è affatto male, anzi. Un altro pendente che mi ha attirato molto, lo so, sono andata sempre a pendenti, però purtroppo quelli mi hanno attirato, è questo ed è il fiore di loto o di infia, scegliete voi come interpretarlo, l'anellino è sempre fatto esattamente uguale, c'è scritto gnos ed è sbaltato nero all'interno, gli anellini di congiunzione sono sempre loro, quindi è inutile che sto qua a ripetermi continuamente, penso che sia l'ultima volta che ve lo dirò con le cose di gnos e come vedete ha questo fiore di loto, diciamo, dai, chiamiamolo loto, più in alto, più a rilievo, mentre sullo sfondo ci sono queste due foglie, allora il fiore è smaltato con due colori differenti di rosa, il fucsia e il rosa, un pochino più chiaro, ci sono anche dei petalini argento, il centro, la pietrina in centro è un cristallo giallo, un cristallo giudino sì, e mentre sulla foglia questa qua c'è la smaltatura in verde, anche con, scusate ragazzi, i lavori, il cane, l'allarme, se sto qua ad aspettare il silenzio assoluto non registro un video, quindi mi spiace se sentite tutti questi rumori di fondo, io provo il più possibile a limitarli però, mi spiace, tutto qua, non riesco a fare i video, e stavo dicendo che ci sono anche le venature della foglia in argento, mentre l'altra foglia è tutta traforata, e in mezzo tra una venatura e l'altra hanno incastrato questi cristalli di questo verde, che è un verde smeraldo, sul retro è fatto in questo modo, quindi vedete la lavorazione della foglia intagliata e della incastonatura dei cristalli, devo dire che non è per niente male questo fiore, anzi qualcosa di differente, sicuramente qualcosa di differente che volevo mettere su un bracciale, magari primaverile, poi ho visto che c'è stata una grossa novità, hanno provato a fare una grossa novità, cioè questa collana, questa collana con anche loro il pendente O, la collana è regolabile in tre lunghezze differenti, quindi potete farla un po' più lunga ancora, e loro vi mettono all'interno della collana questi tre pendentini, cioè queste tre piume, addirittura se volete, io non ho fatto fare nulla, però se volete, sulle foglie, queste qua, che sono tutte in argento, vi scrivono qualcosa, cioè potete inciderle, far scrivere i nomi, o qualsiasi cosa volete, quindi in queste due foglie laterali potete fare anche questa incisione, la foglia centrale invece è composta da questa sorta di pavè di zirconi, teoria, azzurri e cristalli blu, sul retro è fatto in questo modo, anche la forma della foglia, lavorata così, non è affatto male, l'unica cosa, ah, ecco, la particolarità di questo, vabbè, a parte la maglia del pendente O, che è differente, vedete, è questa sorta di torsion, tutto in argento, l'unica cosa di differente è appunto la chiusura, ed è quella che mi ha attirato tantissimo, perché ho detto, ok, prendo il pendente, tolgo questi, perché non è che mi piacciono più di tanto, sapete, io e le piume non andiamo molto d'accordo, però mi piaceva tutto il pendente con la chiusura a cuore, con questo pavè sopra, quindi vedete com'è tutto rifinito bene, questo cuore, anche l'anellino è rifinito molto bene, ha tutto il pavè anche lui, sia davanti che dietro, mentre il retro del cuore è liscio. Mi ha lasciato perplesso che cosa? La chiusura, avete visto con quanta facilità ho aperto la chiusura, cioè mi ha lasciato molto 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 perplessa questa cosa, poi non è così facile aprirsi, cioè resta così, però non si, cioè è dura, ad aprire faccio fatica, ok, sono io che tiro, perché altrimenti non si apre, no? Però questa cosa mi ha lasciato un po' così, anche la linguetta qua non è che mi piaccia tantissimo, come è rifinita e anche all'interno, no, direi che in chiusura chiude molto bene, in apertura probabilmente, boh, mi hanno mandato quello difettato, non lo so, grazie all'arme, quindi è così, non lo so se me l'ha mandato difettato, dovrei tirare in fuori la linguetta sempre con il sistema della pinzetta, però, cioè, se lo comprate ed è già difettato così mi lascia un po' un po' perplessa, devo dire che è molto bello, però, cioè ha fatto così se funzionasse, sarebbe bello la dimensione di un pendente o piccolo, poi, lasciamo parli, smettiamo di inferire su questa collana, vediamo invece queste altre due cose, cioè gli orecchini, questi sono meravigliosi, ragazzi, questi sono stupendi, sono questi due cerchiettini con la farfallina pendente, i cerchiettini sono in rose, hanno la chiusura differente dai classici che siamo abituati, più o meno, il principio è lo stesso, però non è proprio uguale, perché basta, in teoria, tirare, ok, e vedete, c'è proprio il pernino che deve entrare in questo buco, nient'altro, il problema è che è abbastanza duro questa cosa, problema, tra virgolette, è anche sicurezza. L'anellino è caratterizzato da questi zirconcini davanti, sulla prima metà, vedete, il resto non ce li ha, non è traforato dietro, in questo caso non è traforato dietro, sono ovviamente argento bagnato, anche in questo caso, e la cosa bellissima, secondo me, è questa farfalla, vedete dietro com'è fatta, è tutta composta da questo reticolo di argento bagnato, ovviamente, e davanti hanno incastonato queste pietre, bianche le più piccoline, mentre quelle che vanno a caratterizzare le ali sono rosa, di un rosa chiaro come questo, devo dire che sono molto molto belle, e le volevo abbinare, sapete, agli orecchini, quelli sempre in rose, con la foglia rosa, 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 capito, no? Quella è pendente, devo dire che secondo me farei una coppiata super, questi orecchini sono stupendi, e questa è la dimensione, vediamo se ve li confronto con un charm, così vedete anche più o meno quanto sono grandi, ecco, esattamente come i classici anellini che siamo abituati a vedere, quindi questi qua sono approvati, diciamo che ci sono stati un po' di alti e bassi in questo haul, sicuramente sì, ma tante cose mi hanno soddisfatto, quindi fatemi sapere voi che cose ne pensate, e ci vediamo nel prossimo video quest'anno è bellissimo, ciao!